Ok ragazzi siamo pronti, possiamo continuare Abbiamo avuto un piccolo assalto nemico ma nessun problema Nessun problema, qui è tutto sotto controllo Eccolo, eccolo I rompipalle del giorno naturalmente Ma noi siamo tipi duri, ci avventuriamo per la nostra motosega Che mi sono arrivati tipo 50 zombie tutti addosso Io ho fatto col bomba e ne ho fatto tipo 10 a conto Madonna Santa cipolla, è Dio santo Mi spieghi da dove arrivano perché c'è io me ne vedo la schiena così Il boomer cicciole mi arriva addosso Attenzione perché la di solito ci sta sempre un tank Eh lo so Madonna e boomer grinzoso Aspetta o spesso oddio cos'è sta cosa Oddio il cassonetto da lontano non si vede Madonna E' bello Bello proprio il gioco fatto buonissimo Oddio il gioco di indietro Facciamo un po' di gente all'attento Sì sì ci penso io se tranquilla tutto sotto controllo E' tutto sotto controllo Eh te li ho già sterminati tutti Tuttana La splitter troia Oddio Oddio Nulla Oh ma quanti cazzo ce ne sono? Ah non lo so io Oh arrivano da sopra eh No 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 Mannea Ma ecco Oh Oh Ma perchè Nick Fotte le chigle proprio Madonna cos'è tutto sta roba? Zitto silenzio 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 Lo senti No no Prima si senti content Ti giuro Silenzio Non ho dato che non puoi entrare di sicuro Eccolo E' madonna nello sicuro cazzo Via Via scappa Corri scappa Corri scappa sali su Corri Ma dentro non puoi andare almeno con lo sfondo No Ci serve Vieni Corri Fallo fallo uscire fuori i piedi O la molotope O la molotope Oddio Vai vai aspettiamo che se ne occupino oro Vai O la molotope ci pensano loro Eh vieni vieni stronzo vieni Vai vai ammazziamolo Buona madonna Come ti piace vero? Brucia stronzo Ne ho un po' Non posso più muovermi praticamente sono morto Ne ho un po' E' stato classificato nella migliore ricetta Non so Di cucina E' bella che bella faccia che ha Hai visto che bella faccia che ha? Aspè aspè selfie selfie Dai con i giocati Ok 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 i soldi i biglietti ovvero che ci vogliono perché lo sai fischio esatto esatto ma io non so tieni via di le rovina la donna il mio forza rosa rai alzati alzati sono dato ma io ho tre ma lo so la vita è dura ma che non è il medico no non si si ho dato l'adrenalina così di recuperare la vita vai pure più veloce stavamo io pio mi sa ora mi sto curando allora io che cazzo lo dava a fare il kit medico ma fermo pensato a me stessa cosa ritori ecco adesso tutti si ammigli online facciamoli lo so la piazza tiglio vai vai piazza pulita ecco adesso ti arrivano tutti addosso ma sono l'unico che ha la testa per non scendere giù mi piace la mischia la mischia è pieno di bomba ma non è che fa un po' che ci sarebbe una winch perché voglio puntare la pazzo in testo si maio maio sento o mai buongiorno ecco perchè sono un po' per il ma come io ho sparato io per mezz'ora ho anche registrato oh maina ciao tutti con me sentiamo o qua mi sembra che ci stavano oh c'è un'hype bombe vini qua vieni così facciamo il culo a 100 nemici aspetta ho fatto un po' di kit medico un po' di munizioni e chi è di cui non me ne faccio niente quindi prendo quello automatico il bomba ma c'è l'hype bombe sai cos'è l'hype bombe oh no mi spiace signori ma il passaggio è il divieto di sosta non potete passare no coprirai io qua sai com'è quindi ci può andare andate tanto mai io ho tirato tutta io ho tirato in mezzo al fuoco si oh arrivano da sopra vieni dentro vieni vieni rio rio ma che quei deficienti cosa fanno che cosa fanno mi sono buttato giuro ma che intelligenza proprio stiamo arrivando tieni duro tienilo duro no ma l'ho fatto apposta mi sono buttato giuro colpito ahahah via un po' eh eccolo aspetta vietato a chi c'è il telaio iphone ok oh bastardo 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 oh ma cazzo io sono stupido ci vado di sopra però ma mi vomita in faccia a sta troia non è possibile ma bomba 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 dove questo è un gioco cosa io guarda che tappo c'è un tank roberti 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 una bella bombetta si vuoto di lancio granate culo che culo 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 vieni qua vieni qua c'è il medici vieni qua vieni scendi scendi c'è il medikit un intero ma che vado dove vado dove vado qua vieni vieni qua qua oh meno meno me culo oh che bello leggiamo occhio che con cosa hai preso ok ah con la c'è sembrava una chitarra sembrava una chitarra oh aspetta che qua ci sta eh eccolo cosa il tank piazziamo qua la roba penso che ci sia perchè di solito c'è sempre piazza d'acqua aspetta dico se c'è ok non vedo niente vedo un paio di zombie sotto no non riuscito a buttare la bomba giù e a spararmi vediamo se no amici oh aiutai no ho fatto esplodere l'automo mi sono pagato il culo non ti sei fatto male vero no vabbè ammazzati tutti ok io vorrei pigliarmi adesso oddio qua ci abbiamo l'intera cosa madonna ok facciamo via aspetta io mi prendo mi prendo oh no vedo qualche acapa curiamoci tanto abbiamo tutta la tutti i medici che vogliamo almeno ce ne sono tantissimi ok non è un'altra cosa che cosa mi è che non lo so che è bello io io vorrei volerlo una mitragliatrice ma non voglio mollare il lanciagranate davvero è speciale per me qualcosa di unico e mi lo fa è strautile scopo ma vabbè possiamo andare avanti se vuoi si si aspetti delle pistole io ho preso il mega pompa ad ebulizioni se devi una mitragliatrice pigliati questa te la consiglio no 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 mettiamo il pompa la vicina è utile ok andiamo dentro su il supermercato siccome io ho il lanciagranate oddio mi si è baggata la mano ma poi nel video vedrai la mano baggata lascia vedere comunque ehm facciamo così dato che io ci ho il lanciagranzi no tu pigli la roba e io spavo direttamente a orde di nemici li faccio saltare tutti in aria con un colpo ehm stai sto per aprire la porta ehm stai sto per aprire la porta andiamo andiamo via la coca via la coca sta brillando la coca coca cola eh c'è un po' di gente allora ci penso io io ho la coca non mi potete uccidere ma che cazzo io ho splato un colpo in lancio che non ha te in faccia io scappo vai vai scappa scappa soldato sono bloccato ci penso io scappa 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 cazzo che mi liscia le mele madonna non avrete la mia coca buttetevi non avrete la mia coca non avrete mai la nostra coca bastardi la coca è nostra se lo siamo godagnata ahah scappa ecco che salgono ecco che salgono ecco che salgono minchia minchia siamo ricercati dagli zombie via via mettigli la coca zio 4 bombardamento aereo penso che si siano arresi il sacco tutto il problema lascio la giornata il tempo ok andiamo andiamo manca poco dai dai abbiamo vinto no problem molly 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 eccolo e dai bastardi nooo cazzo aiuto aiuto mi stuprano mi stuprano bastardo ma ti levi suino questo tu non meriti di vivere questo tu non meriti di vivere ok la facciamo schiena perché mi cura vai cura mi c'è proprio non so sembra qualcosa che debbano fare altrimenti il mondo mi sto con tu oh yeah proprio gli sento oh e siamo salvi ok penso che possiamo finire qui si va bene ok ragazzi se vi è piaciuto spolliciate mettete iscrivetevi al canale e commentate ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi